Dio è Dio di pace, non esiste Dio di guerra, solo la pace è santa, non la guerra. Noi non abbiamo armi, crediamo però nella forza mite e umile della preghiera. Pace vuol dire perdono, è umile della preghiera. Pace significa accoglienza, è umile della preghiera. Pace vuol dire collaborazione, è umile della preghiera. Pace significa educazione. Uscire, mettersi in cammino, trovarsi insieme, adoperarsi per la pace, Dio ce lo chiede, esortandoci ad affrontare la grande malattia del nostro tempo, il paganessimo dell'indifferenza.